Cari amici, il calcio è morto. Tra le notizie più incredibili di ieri c'è che in Lega Pro, che un tempo si chiamava Serie C, la squadra di Cuneo ha battuto per 20-0 il Pro Piacenza. Il Pro Piacenza è una squadra in gravissime difficoltà economiche, non ha potuto partecipare alle precedenti tre partite proprio per questi problemi economici e ieri per non farsi radiare dalla Lega Pro, ha mandato in campo una squadra composta da sette ragazzini, il più vecchio credo fosse del 2000, e sette ragazzini delle squadre giovanili più il magazziniere che è riuscito a convincere l'arbitro di essere un tesserato anche lui. Purtroppo questo generoso magazziniere si è infortunato per un colmo della sfortuna. Molti hanno criticato il Cuneo, sì certo poteva fermarsi prima, magari 20 gol non erano proprio necessari, 16 nel primo tempo e 4 nel secondo. Però bisogna dire che il Cuneo ha tutto il diritto di giocare come meglio crede, probabilmente una squadra inglese avrebbe fatto esattamente la stessa cosa. Ma quello che vorrei commentare con voi è che improvvisamente i commentatori sportivi scoprono ciò che chiunque faccia il tifo per una squadra di provincia sa perfettamente da sempre, direi. ovvero che la serie B e la serie C e forse anche la mezza serie A è in realtà tecnicamente fallita. Noi tutti sappiamo che ci sono squadre che stanno in piedi facendo il gioco delle plus valenze con società di serie A, noi tutti sappiamo che certe squadre non pagano gli stipendi da dicembre. Noi tutti sappiamo che certe squadre che hanno fatto campagne acquisti faraoniche non avevano e non hanno i soldi per farle. Noi tutti sappiamo che qualcuno fa il gioco delle scatole cinesi per far risultare in salute una società che invece è tecnicamente fallita. Noi tutti sappiamo che i punti di penalità così per un regolamento che pare insensato vengono applicati sul campionato successivo e quindi cosa vuol dire? Vuol dire che chi ha imbrogliato va in serie A e chi invece è stato onesto rimane in serie B. Ma vi racconto solo un episodio per concludere, io sono tifoso della Cremonese, sono sempre andato allo stadio, tuttora ci vado, e due anni fa è successo questo fatto. La Cremonese era alla finale dei play-off, no scusate era l'ultima giornata di campionato e la Cremonese vincendo avrebbe evitato i play-off e sarebbe andata direttamente in serie B. La squadra che aveva di fronte si chiamava Sporting Roma, era un piccolo club di Roma che in caso di sconfitta sarebbe retrocesso dalla Lega Pro. Quindi era una partita all'ultimo sangue e all'ultimo sangue, anzi all'ultimo minuto, ha vinto la Cremonese che è andata in serie B. Il presidente dello Sporting Roma si è presentato in sala stampa e ha fatto notare una cosa ovvia, ovvero io che ho pagato tutti gli stipendi retrocedo, ma noi sappiamo che davanti a noi ci sono almeno 5 o 6 squadre che sono tecnicamente fallite. Vi sembra giusto? No, non è giusto. Ci vorrebbe un repulisti, un repulisti totale che per ora nessuno sembra intenzionato a fare, perché da questo repulisti verrebbe completamente ridisegnata la mappa del calcio italiano.